ciao a tutti benvenuti a questo nuovo video in cui faccio uno dei recuperi di book haul di cui ho parlato uno dei due che vorrei fare e in particolare su una collana che è uscita verso la metà di gennaio e di cui è successa una seconda tranche pubblicazione alla fine di marzo inizio aprile circa che è una collana molto particolare della hugo one editore intitolata le bussole è probabile che abbiate visto questi piccoli volumi al di sotto delle casse o in dei collector al fianco delle casse delle vostre librerie preferite dove ho scoperto invece questa collana è stato per puro caso non sia la feltrinelli di torino ero andato nella città piemontese con la mia ragazza una coppia di amici e conoscendo la predisposizione per quella città per i libri famosa ovviamente il salone del libro chi non c'è stato di noi appassionati bibliofili era praticamente esposta a una pila di questi bellissimi volumetti e mi hanno colpito particolarmente erano le prime sei uscite quelli di gennaio e il numero uno era alta fedeltà di nick orby come vedete i volumetti sono molto carini sono di un formato contenuto molto maneggevoli anche da tenere in tasca cioè sono dei tascabili in senso vero e proprio quasi mi hanno ricordato i bei tempi dei libri transistor come venivano chiamati all'origine c'è un termine che fu coniato per definire i tascabili i primi tascabili usciti in italia ossia gli oscar mondadori ma sto parlando di quelli del 1965 che io conosco grazie alla piccola collezione che mio papà aveva raccolto all'epoca come dicevo formato molto maneggevole molto agile molto carino ma anche con una buona tenuta perché è comunque una copertina cartonata abbastanza rigida ovviamente per la scelta della collana verte su titoli di breve o media lunghezza la scelta editoriale ovviamente verte sui best seller della collana o guanda soprattutto delle fenici e quale migliore autore per inaugurare una nuova collana se non Nick Horby e il suo alta fedeltà famosissimo che io però non avevo ancora letto e che è stata l'occasione per non soltanto collezionare finalmente una collana perché era veramente parecchio tempo che avevo il desiderio il desiderio di collezionare continuativamente una collana che facesse però delle proposte editoriali interessanti questo forse in italia si è venuto un po' a mancare cioè ci sono alcuni editori che pubblicano collane molto interessanti che sarebbe interessante poter collezionare una della loro interessa però se andiamo a parlare della delfi piccola biblioteca o biblioteca delfi sono edizioni che sono nate sin dall'inizio degli anni 70 sono più di 40 anni pubblicazioni vedete anche voi conto che una persona della mia età anche con tutta la buona volontà a fare il recupero completo di una collana del genere è praticamente impossibile allora ho cercato negli ultimi anni una collana della collezione che potesse però anche offrire una scelta interessante di titoli e finalmente l'ho trovata nelle bussole guanda quindi sono veramente entusiasta di questa collana ed ecco qui la mia collezione delle bussole guanda di fronte all'altra collezione delle mille gru marsilio come vedete fino adesso sono usciti nove volume e sono molto carina tenere in libreria quindi fino adesso nove volumetti alcuni mi hanno colpito subito cioè soprattutto i primi altrimenti non avrei deciso di collezionare neanche la collana probabilmente altri mi interessano meno soprattutto gli ultimi tre uscite soprattutto bucoschi che non è un autore che io amo particolarmente però proprio quel valore collezionistico che mi porta ad essere affezionato alla collana adesso mi impone di comprarne tutti i numeri uscenti fino adesso ho letto quattro volumi della collana a partire proprio da alta fedeltà di nick orby io non avevo neanche visto il film e per fortuna perché ovviamente aver già visto il film rovina sicuramente la lettura di un volume le impressione ho avuto di nick orby tenete conto che io di nick orby non avevo letto nulla neanche alta fedeltà ma proprio non avevo letto alcunché se non alcuni brani tratti dal una vita da lettore che dire di alta fedeltà alta fedeltà capisco benissimo perché ha raggiunto lo status di libro cult a tutti quegli elementi che fanno degli anni 90 agli anni 90 ma c'è di più non è soltanto il simbolo di un'epoca e quindi un libro fortemente legato all'epoca in cui è stato scritto ma presenta anche dei personaggi memorabili ovviamente mi riferisco per esempio a barry commesso sopra le righe del negozio del protagonista secondo me per chi vuole provare nick orby alta fedeltà potrebbe essere tranquillamente il libro simbolo probabilmente letto alta fedeltà si potrebbe non leggere altro di nick orby comunque lo consiglio come documento di un'epoca ma anche di un certo atteggiamento di sindrome da peter tan che ha il protagonista che accomuna molti uomini sia dell'epoca in cui è stato scritto il libro che di oggi è sicuramente un libro post moderno vogliamo dire contemporaneo in tutti i sensi vale la pena di essere letto non è un particolare capolavoro non infatti come vedete non mi sta suggerendo particolari chiavi di lettura comunque una lettura piacevole grande scoperta e ringrazio la collana per avermelo proposto è luis sepulveda di cui ho letto soltanto alcuni brani patagonia express che mi riprometto di leggere un giorno luis sepulveda è famoso in italia soprattutto per ovviamente storia di una gabbianella e del gatto che ne insegna a volare è una fiaba adulta forse possiamo definirla così non l'ho letta è famoso soprattutto per quello e per il film che ne è stato tratto in italia il vecchio che leggeva i romanzi d'amore a tutt'altro tono sicuramente una fiaba è un bellissimo romanzo che racconta la forza del di coloro che vivono in contatto con la natura dell'amazzonia il vecchio protagonista del romanzo che leggeva romanzi d'amore perché ha questa sua particolare affezione per le storie romantiche è una persona che ha vissuto nella giungla amazzonica ha convissuto con i popoli dell'amazzonia e ne conosce gli usi costumi ha imparato da loro a come si affronta la natura pericolosa e aspra di quei luoghi e arrivato sulla storia dell'anzianità come suggerisce il titolo il vecchio si ritrova a dover guidare quantomeno fare da consulente alla caccia a un grande puma che sta decimando la popolazione di un piccolo villaggio questo è il processo della storia a parte che la storia personale del protagonista è veramente struggente interessante veramente umana ma da tutta la seconda parte che è quella della caccia a questo grande felino sicuramente la più interessante in quanto fa veramente vedere il contrasto dell'uomo occidentale che pensa di poter dominare la natura e che invece ne resta sopraffatto se non adotta i metodi propri di colore che invece pur essendo tracciati di essere popolazioni primitive sono invece le persone più a contatto con la natura grande lezione etica morale di sepulveda trasformato in romanzo sotto spoglie di romanzo è una lettura che consiglio assolutamente andando avanti nell'ordine di lettura ma non di collana perché siamo al 6 delle bussole guanda abbiamo saltato qualche posizione avevamo parlato appena della 1 e della 2 e saltiamo alla 6 trilogia del ritorno di Fred Wohlman famosissimo raccolta di tre romanzi brevi forse più famoso l'amico ritrovato degli altri due ne sono quasi in soggezione a parlarne ma soltanto per l'aura che circonda questi romanzi perché il contenuto in sé pur interessantissimo ha fatto parte di un ciclo di lettura e di cui potevo fare una monografia ma non me la sento un ciclo di lettura riguardanti l'olocausto ed intorno che è iniziato ovviamente con i due classici di primo levi passando per Fred Wohlman e finendo con il contemporaneissimo straordinario di libri magari quello farò uno speciale libro più film vedremo non vi prometto niente nel riguardo Fred Wohlman in realtà non era uno scrittore era un pittore un artista che però scrisse questa famosissima trilogia che cosa possiamo dire di trilogia del ritorno allora partiamo dall'amico ritrovato l'amico ritrovato in realtà è un ricordo di infanzia del protagonista che rimembra i tempi in cui era in rapporto con questo Junker tedesco di schiatta antichissima che sulle storie ovviamente dell'avvento del nazismo di Hitler resta affascinata la figura del futuro Führer e diventa un suo seguace ovviamente deludendo tantissimo il protagonista che è ebreo e che sarà costretto alla fuga prima di far la fine che amaramente sappiamo milioni di ebrei hanno fatto nei territori occupati dai nazisti scusate la farogenesità con cui sto cercando di esprimere questo concetto la potenza del romanzo alla fine devo dire sta proprio in questo nel vedere come l'amicizia di fronte a questi grandi avventi e personaggi che provocano queste grandi fascinazioni può non reggere non soltanto il protagonista si sente completamente tradito dal suo amico Junker tedesco ma non ne sopporta più il ricordo di amico il titolo alla fine non penso di fare grande spoiler è l'amico ritrovato perché alla fine dopo anni quando saranno passati anni scoprirà che il protagonista scoprirà che il suo amico ha fatto parte della famosa attentato del maggio scusate dell'estate del 44 in cui gli ufficiali tedeschi cercarono di uccidere Hitler con un attentato con la bomba operazione Valkyrie di cui ha fatto anche un famoso film con Tom Cruise ha partecipato appunto a operazione Valkyrie il suo amico e quindi si riscatta in un certo senso nella memoria del protagonista per aver capito veramente che fosse Hitler che cosa fosse il nazismo e ma soltanto a posteriori così si riscatta nella sua memoria a parte questo devo dire a parte il contorno il contesto secondo me la scrittura di Woolman non è così potente e i fatti raccontati non sono così interessanti cioè è come da prendere come un episodio di testimonianza tant'è che il secondo romanzo che compone la trilogia romanzo breve sempre in realtà è una lunga lettera che appunto l'amico tedesco scrive al protagonista del primo racconto l'amico ritrovato in cui cerca di spiegare dal suo punto di vista tutta la vicenda che avevamo appena letto nella prima parte è un po' ripetitivo alla lunga e quindi lì si vede veramente i limiti di Woolman e secondo me non va giudicato dal punto di vista letterario quanto più del messaggio che veicola e se dobbiamo vederlo da questo punto di vista sì Fred Woolman è un grande autore documento sull'olocausto secondo me può colpire molto di più l'adolescente che si ritrova nell'età dei protagonisti molto meno l'adulto che magari cerca delle storie più approfondite e letterariamente più valide diciamo tutta la verità Fred Woolman è un onesto scrittore non è un grande scrittore l'ultimo raccontino niente le soluzioni per favore è sempre un racconto di rabbia di rancore di un protagonista simile a quello del primo racconto ma un altro personaggio completamente diverso che ha molti punti di contatto con il protagonista del primo racconto ossia è un ebreo che è sfuggito preventivamente alla foglia nazista ora ritorna in Germania affronta i suoi ex compagni di scuola alcuni dei quali hanno partecipato alle atrocità naziste tutti che cercano di giustificarsi compreso la sua ex fiamma che lì per lì fa finta addirittura di non riconoscerlo e si sentono schiacciati ovviamente dal senso di colpa di aver partecipato a quella follia e si ritrovano di fronte al rancore di quest'uomo che non sa perdonarli che cosa dire anche qui è un grande documento però io in cuor mio non riesco a empatizzare con né con gli uni né con gli altri né con l'ebreo esule e né con i suoi ex compagni diventati nazisti forse tutto sommato è proprio questa la potenza di questi raccontini cioè ci mette di fronte a situazioni reali noi forse dalla sicurezza del tempo passato e dalle nostre certezze di un'epoca diciamo relativamente pacifica cioè non ci siamo tutti mai a dover affrontare la situazione del genere spero che non dovremmo mai farlo possiamo anche essere arroganti credere che sbaglia tanto colui che porta rancore quanto sbagliano coloro che cercano di giustificare le loro malefatte ci sembra una fiera di umanità di poco con di poco valore persone di poca caratura però accidenti se ci dobbiamo pensare seriamente stiamo parlando di esseri umani e gli esseri umani sono imperfetti quindi forse in questo aspetto un man ha colto veramente il segno sta parlando di essere umani con tutti i loro difetti non ci sono parti in questo c'è essere umano essere umano e siamo tutti deboli e siamo tutti vittime carnefici se vogliamo essere qualunquisti quasi nel commento ma no non ne vale quasi la pena vale la pena invece leggere trilogie del ritorno di Fred Wolman direi sì soprattutto se si ha un'età adeguata cioè si può leggere ovviamente anche dopo perché i libri non hanno mai età però forse fa il suo più grande effetto su un lettore adolescente allora ai lettori che hanno ancora la fortuna di essere giovani e di poter cogliere ancora tutta la bontà e la sfumatura di libri rivolti alla loro età li consiglio sicuramente ultimo libro della trancia numero 4 telebussole guanda abbiamo di paolo mastracolo una barca nel fiume allora che cosa dire di una barca nel fiume il nostro protagonista gaspare torrente è veramente l'epitome dell'idiozia adolescenziale l'idiozia insese in questo senso è un eterno outsider e non ha assolutamente la capacità di uscire da questa condizione e devo dire che non ho capito bene la posizione di paolo mastrocola forse la critica principale di paolo mastrocola è verso la scuola come sistema cioè come scuola che non sa crescere le persone e che non sa controllare le classiche differenze che vengono fuori normalmente tra le persone che non sanno adeguarsi all'omologazione tipica dell'età adolescenziale ma porca miseria anche io l'ho criticata tanto da ragazzino questa cosa e la capisco ma capisco benissimo però in tutta onestà ora ha 30 anni e so che paolo mastrocola ne ha più di me in quello mio intellettualmente per essere intellettualmente onesto non posso sostenere la stessa tesi di quando avevo 15 16 anni che ce l'avevo con il mondo perché le mie passioni mi portavano a essere isolato perché io non mi adeguavo l'omograzione che c'era in giro cioè io penso che se una persona arrivata all'età della maturità non è ancora riuscita a capire che se si sente diversa questa è la sua forza e questo il protagonista del romanzo non lo capisce ma neanche per sogno tant'è che anche la sua nella sua maturità si sentirà sempre un escluso io penso che francamente abbia dei seri problemi psicologici o quantomeno se i problemi di socializzazione ok allora posso capire tutta l'apologia al ragazzi non siate omologati ragazzi le differenze sono una forza eccetera 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 ma nel momento in cui diventa un'apologia che con l'essere diversi causa soltanto l'essere poveri e tapini miseri e tapini no a quel punto il libro secondo me perde un po' l'obiettivo infatti devo dire all'inizio mi stava piacendo parecchio pensavo che ci fosse uno sviluppo un riscatto del protagonista che arrivasse a capire la la forza della sua diversità invece no noi vediamo gaspare torrente crescere per tutti per tutti gli anni del liceo e oltre e lui tenterà scioccamente di adeguarsi da alcune omograzioni cioè Paola Mastracola va molto sul cliché del tipo e si vede anche l'epoca in cui è stato scritto vanno di moda le adidas bianche lui non capisce perché ma costringe la madre che pur campa su una piccola gastronomia che è tirato su a premessa il protagonista viene da un'isola quindi la Mastrocola già pone l'accento su questo è già un outsider di partenza cioè viene da una realtà diversa va a torino per studiare perché pensano che sia una persona estremamente merita dal punto di vista accademico e si scornerà ovviamente non soltanto con l'ambiente dei suoi compagni ma anche con tutto l'ambiente scolastico che non valorizza la sua capacità e va bene questo aspetto del libro ci sta tantissimo e mi è piaciuto quello che mi è piaciuto poco come ti stavo dicendo è questa sua continua ricerca di sembrare simile agli altri fallendo sempre miseramente una persona estremamente inadeguata alla vita cioè nel momento in cui constata che è diverso che le sue scarpe non sono quelle dell'ultima moda che non indossa i vestiti che tutti indossano ne soffre come un cane cerca di adeguarsi ci riesce male perché arriva sempre in ritardo rispetto a tutti gli altri e accento sempre di più la sua posizione di outsider non c'è una crescita vera e propria del personaggio non arriva mai alla consapevolezza della sua forza e del far valere le sue differenze questo secondo me è un messaggio molto negativo da far passare all'interno di un romanzo del genere se vuoi essere una critica al sistema scolastico o insensolato al sistema Italia che cosa provoca a essere omologati e non valorizzare le eccellenze parca miseria ma almeno il protagonista che si riscattasse alla fine del romanzo invece vediamo come finisce nel nulla e va bene se questo doveva essere il modo di accentuare la critica può starci non lo so secondo me no secondo me il finale doveva essere completamente diverso scusate lo so che è uno spoiler però dopo la seconda passata la metà del romanzo si capisce finissima doveva parlare quindi non penso che sia neanche un grande spoiler quindi una barca nel bosco non mi è piaciuto gli ho dato a tre stelle perché obiettivamente lo si è la maestro cola e alcuni messaggi che veicola sono assolutamente di rilievo e molto interessanti però lo svolgimento e il finale non ci siamo all'appello quindi mancano altri cinque libri due che sono jordan safran forer ogni cosa illuminata e un libro di donna tart mi sembra spero di non dire castroneria non lo ricordo sinceramente memoria poi abbiamo un libro di bokowski uno di miscini ma è un altro di sepolvida allo stato attuale vorrei dare priorità a forer e a sepolvida che mi ha colpito moltissimo e che quindi sono ansiosi di poter riprendere mano una seconda volta io consiglio questa collana a tutti proprio per il motivo che dicevo all'inizio è raro trovare allo stato attuale una collana che fa delle proposte interessanti che guida quasi la lettura che crea un percorso per il lettore di solito le collane librale sono libri pubblicati a caso qui quantomeno un intento di editore c'è e quindi è molto apprezzabile per questo io la consiglio anche perché è molto carina da collezionare poi è molto pratica da portare in giro per chi odia gli ebook non io può anche essere una buona motivazione qualcuno l'ha definito gli anti ebook spero soltanto che questa collana non sparisca nel nulla perché non ne sento parlare non ho visto che sono andati a ruba in libreria non vorrei che tra poco chiudesse mi auguro di no io comunque continuerò a pozionare questi piccoli bricini che sono dei piccoli gioiellini tra alti e bassi ovviamente perché non può piacere tutto ma comunque le proposte sono molto interessanti vi consiglio a se riuscite a trovarle di provare anche voi a leggere almeno uno per spezzare magari la prossima volta passerò a un book tag ne avevo ottenuti alcuni da parte e mi manca soltanto da registrarli sono pronte praticamente devo soltanto mettermi davanti a un video e parlare ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao